Si interrompe a 9 la striscia positiva dello Spezia, il piccolo e la Sferona supera le Aquile 2-1 e pensare che la giornata era iniziata nel migliore dei modi con un gol inrovesciata di Mora ma al ventesimo il pareggio da parte di Zaccagni rimetteva in equilibrio la sfida poi vinta dalla formazione di Grosso nella ripresa con un gol da fuori area di Gustafsson Verona che supera lo Spezia in classifica salva la panchina di Grosso che era in bilico ma andiamo a sentire le interviste del dopogara Mister Marino si interrompe il filotto di risultati utili consecutivi scontro diretto contro un ottimo Verona, Spezia che inizia bene poi una sconfitta che comunque non ridimensiona le ambizioni della sua squadra No, anche perché secondo me, a parte che il gol del 2-1 è stato abbastanza casuale e fortunoso perché è passata una palla in mezzo a tante gambe però il 2-2 l'abbiamo cercato fino alla fine secondo me il risultato di parità era quello più giusto però ognuno ha la sua opinione sulle cose e quindi c'è rammarico per questo Mora, purtroppo il tuo Euro-goal non è servito per vincere una partita di prestigio contro un'ottima squadra in uno scontro diretto Sì, è un peccato ci tenevamo a dare continuità ai nuovi risultati utili che avevamo ottenuto purtroppo oggi il Verona è stato bravo siamo partiti fortissimo e purtroppo abbiamo subito un gol in un momento in cui stavamo gestendo abbastanza la gara peccato però è una buona squadra è venuto qua, non ha rubato nulla ha fatto una bellissima partita forse potevamo anche pareggiarla però può capitare quindi dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo che sono i play-off dopo 9 risultati abbiamo perso una partita ci riposiamo e poi ripartiamo per la prossima partita Carpi Un giudizio sullo Spezia in prospettiva futura secondo lei dove può arrivare la squadra di Marino? Questa è un'ottima squadra che ha qualità, che ha brillantezza che ha entusiasmo, non è poco è un campionato difficile, tutte le partite sono difficili noi lo sappiamo vogliamo farle tutte come le abbiamo fatte oggi non è facile però riproponendo queste caratteristiche di oggi sicuramente è più probabile ottenere risultati positivi ok? ok